E' giusto! Abbiamo un mega campione! Amici telespettatori, vi attende una strepitosa serata di Caduta Libera con i più grandi campioni di questa edizione. Si affronteranno senza esclusione di colpi e di cadute cercando di battere lui, il campionissimo! Caduta Libera, venerdì alle 21.10 su Canale Cinema E alla fine ne resterà solo uno! Forza!